Signori, bentornati sempre qui sul canale. Come state? Oggi voglio rubare giusto un minutino del vostro tempo per rispondere a un quesito, ovvero che dovevo accantonare le stream per un po' di tempo. Però per quanto mi duele farlo cercherò di essere ancora più presente qui su YouTube, sia con Marvesnap sia con altri contenuti che spero vi piacciono, anzi fatemi sapere quanti contenuti volete o vogliate in futuro, perché io già con la testa io intravedo del calcio, io già a settembre vedo calcio su questo canale. Quindi veramente ci tengo particolarmente a questa roba, fatemi sapere qui sotto quali altri contenuti volete, anche per un video, anche per così, ci facciamo un video così a cazzo così, cilliamo e smorziamo anche qui la morsa di Marvesnap che ci sta allogorando. Però, super cazzo la fatta, ora andiamo con il contenuto e vi lascio con il mazzo più forte di Marvesnap attualmente, vamo sempre. Allora, la situazione è questa qui, io ci ho giocato proprio per niente in questi giorni perché cazzi mazzi, il problema è uno, il problema è questo mazzo, perché è veramente troppo forte, ovvero il lockdown. Lockdown, ma qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che è veramente troppo rotta la combo profix più Cannonball con l'Hop Summer, poi abbiamo Tenet Sage, che sono due carte che possono arrivare a punti fenomenali, c'è anche Angela che possiamo swarmare con la Kitty Pryde. Abbiamo avuto molte discussioni inerenti a Cannonball, il problema di Cannonball, come facciamo a nerfarlo, il problema è, giustamente, direte voi, magari non è tanto il suo effetto ma i suoi punti forza che sono un po' troppi per il tuo effetto. Sapete cosa mi ricorda Cannonball? Io non so se anche a voi dalle stesse vibes, ma mi ricorda molto a Lyot quello che è stato, non ho spostato la gamma. Ecco, diamo i meriti al ragazzo, facciamo vedere che se lui mi ara è perché è bravo e non è perché gioca nella Discord, dai. Tanto ne è buona su un'ira per l'ira. Giochiamo Tena, poi. Vabbè, ragazzi, io non ho parola ogni volta che devo iniziare un contenuto e questo è il punto, le location. Giochiamo Tena, ma non la giocherei su un'ira per l'ira anche perché è molto più probabile che vada a essere a punti fenomenali così che poi uno Xiang ce lo butta giù. Perfetto, Green Goblin. Ovunque, vabbè, fratele, dai, fai un po' come ti pare. Ah, eh, ok. E allora Green Goblin è qui. Non lo farei su un'ira per l'ira perché è un pochino inutile. Però potrebbe essere utile il fatto che poteva dargli un po' di grattacapia d'angela. Ecco qua. Ecco qua. Lui c'è la combo. L'Obsummer è mia, mi sa. L'Obsummer è mia? C'è la cosa? Sì, l'Obsummer è mia. L'Obsummer è mia. Penso se per me leggere e ne scrivere farei questa roba. Valentina. Vabbè, è un log istrambo lui. Log istrambo con Valentina. Sapete che Valentina fortunatamente non l'ho presa? Perché è una carta che, boh, mi fa cacare. Lui si prende Sage, però attenzione. Lui si prende Sage. Lui può sformare con Obsummer come se non ci fosse un domani. Io spero che la carta dell'Obsummer sia inutile. Che altrimenti è un problema la cosa. Con Lector è buono comunque. Con Wayworld è molto buono. Si buffa all'infinito. Poi dobbiamo fare Sage Kitty. Per forza Sage Kitty Pride. Per forza Sage Kitty Pride e poi dobbiamo chiuderla con Doom. Cioè, pensa tu che chiusura che ci abbiamo. Ok, quanti ammonti? Brutta storia. Brutta storia, brutta storia, brutta storia, brutta storia. Gli basta un cannonball al centro se l'ha pescato. Basta un cannonball al centro ed è finita la bacchia, regà. E la mia conclusione è questa. C'è cannonball, vince. Vediamo provare ugualmente? Proviamo ugualmente. Quella è cannonball, eccolo. Eccolo che arriva. No, la white? Non ci voglio credere. Non ci voglio. Ma non così. Ma non col mio mazzo. Vabbè, regà, come prima partita. Comunque è bella la location, la carriata. Mi fa molto piacere. Non mi fare il pugno, frate. Non è questo il punto. Il punto è che il mazzo è veramente molto frustrante. Cioè, il cannonball pro fix è una combo veramente molto frustrante. Allora, sto lasciando il fatto che poteva vincere con qualsiasi mezzo. Potete vedere. Ce l'abbiamo subito. Cioè, immaginate voi di subire sempre questa rotta combo. Eccola qua. Ce l'abbiamo in mano. Io snapperei comunque. Però ci mancano i game intanto. Però ci abbiamo Summer, Sacre di Temporale. Ok. E vabbè, Jeff. Che cosa ti aspetti con Jeff? Poi ci abbiamo Summer. Ci abbiamo il Green Goblin da settare. Vabbè. Oh, 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 oh. Sì, sì. Lo Snap mi sa che ci sta. Dammi, dammi Gitti. Pena, dici. Sì, allora a sto punto facciamo Summer. Vabbè, oh. Sì, ma io ti Snap e tu mi abbandoni, ragazzo. Qual è il punto della situazione? Perché ti ha briccato male il mazzo? Abbiamo giocato tutti e due uno squalo. Abbiamo pareggiato la roba. Andiamo, andiamo, andiamo. Maginiamo, maginiamo. Nebula, Ravonna, Green Goblin. Snap. Città dello Slout. Snap. Cioè, questo mazzo dà una sicurezza in qualche modo. Può briccare. Perché certo può briccare. Però con Ravonna che ti sconta Sage, ti sconta Angela, ti sconta Profix, che ti sconta altro. Sconta anche Tena e Green Goblin. Adesso veramente. Cioè, sta diventando veramente troppo forte questa Ravonna in un mazzo del genere. Cioè, guarda quante cose può scontare. Silver Surfer? E lui? Il maledetto. Spero che non abbia Wong, altrimenti è un problema. Ok. Calmi. Io farei Tena Green Goblin e poi Hop più Kitty. Ma Tena forse non lì? Tena forse non lì? Green Goblin più Tena. Eh, meglio. Meglio, 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 meglio. Madonna, uno spazientino. È un Patriot, ok. Nebula. Che brutta la Pixel! Mamma mia, ma che gli è successo a Nebula? Mamma mia. Che sono brutte le Pixel. Cioè, penso che l'unica carina di Pixel che esiste in questo gioco è quella di Jubilee. Se non l'avete vista, andare a cercare su Zone che... Ma potete benissimo trovare la variant. Quella è carina, sembra molto Pokémon. Questo invece è un problema. No, non dovrebbe essere un problema, visto che adesso possiamo fare Hop Summer più Kitty Pride che si buffa Tena. L'unica cosa che può andare storta è tipo Patriot qui. Bello, 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 bello. Bello. Ok. Adesso, qual è il punto? Serve un Profix per farlo succedere lo Slout. È talmente semplice che... Facciamo così e basta. White più Profix. Ok. Tanto lui non dovrebbe avere il ragazzo. Poi mettiamo comunque il Kiss e gli dà un meno 8. E... Vabbè, oh, può andare molto peggio. Può andare molto peggio. Sage. Angela. Kitty Pride. Però forse Sage è too much lì. Magari può azzardare un legione. Può azzardare un legione lui, teoricamente. E se lui utilizza legione, possiamo ben capire che noi l'abbiamo persa. In effetti. No. Però se fa legione, lui prende un... Capito. E si ritira perché questa play è veramente molto, ma molto rotta. Cioè, guarda Tena. Guarda Tena. Guarda Tena quanto è arrivata. Una 2-10. Ma stiamo scherzando. E torniamo a 7500. Perfetto. 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 Oh, non sto giocando per niente. Poco e niente. Non sto trattando in questo inizio di season. Perché? Boh. Serve qualche altra carta. Io spero che martedì, in qualche modo, con Cersei cambi qualcosa. Ma non credo. Perché Cersei, boh, non è una carta che mi fa... Che mi preme particolarmente avere. Poi, bisogna aspettare pastos, secondo me. Per vedere un po' di cambiamento su Marvel Snap. Però, se ci pensate, alla fin fine, anche Namora non era così tanto acclamata. Ma invece, io ancora il mazzo lo sto utilizzando. Barty Luke. Ragazzi, ora vi insegno una cosa. È tostica sta roba. È veramente molto tostica. La white su Barty Luke è illegale. È veramente illegale sta roba. Poi ci abbiamo Jeff da spostare, no? Beh, mi sa che è White Video Simulator lì su Barty Luke, vero? Eh, vero. E quindi continueremo noi questa marcia, mi sa. Continueremo questa marcia. Il problema è che adesso, se tu mi dai, anche la... Mi da Tena. Bene. Green Goblin, allora. Perché poi, così, turno 4, possiamo fare Tena più Ravonna. Magari. Eh, 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 eh. Adesso lui farà la white qui, mi sa. Tena più white? No. Tena più Nightcrawler. Ah, va bene, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta. Adesso facciamo Tena più... Eh, oddio. Tena più Ravonna. Tena più Ravonna, io metterei Ravonna qui, ok? Metterei Ravonna qui. E spero che mi dia, che ne so, tipo Summer, Kitty Pryde. Non Sage e Profix, perché altrimenti è un problema. La white lì, perfetto. Quindi non ce la butta su Krausini, siamo belli d'accordo, ok? Kitty Pryde. Perfetto. Ci prendiamo, ci prendiamo la nostra Prio. E... Bella Kitty Pryde, subito uno quattro. Oh. Ehi. Uno. E due. Il problema è che poi non riesco a fare Angela Kitty Pryde, perché si deve baffare... Tena. Si deve baffare Tena, sì. E tu ne lo sai come lo chiudiamo noi? Non so, dipende. Dipende da quello che ci dà. Ci abbiamo anche un'altra white, se vogliamo. Eh, bene, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sperando che lui non mi faccia... Oddio, se mi palla white comunque posso switchare Jeff, non è questo il problema. Jeff white. Jeff white, Jeff white, ok. Ok, ok, ok. Perché non si è baffato Tena? Perché non... Perché non conta il bar di Luke? Dai, ma un'altra roba. Oh, ma a stelle location comunque sono... Che, non c'entra sta roba. Io ho giocato due carte però. Dai. Eh, scusami. Io l'ho giocata le due carte, non mi può fare sta roba. Comunque Cannonball a sto punto. Come Cannonball ci dovrebbe spostare Tena. Sapete, poteva essere molto più utile per... Che cosa? Come si chiama? Il Profix. Io non so se vinciamo però. Lui sposterà Nightcrawler qui e Jeff qui. Per vincere. Sì. Io gli sposterò Tena e lui metterà Cannonball. Andrà a 9. No, lui sposterà Nightcrawler. Sì. Andrà a 9. Oddio, ma teoricamente lui... C'ha il meno 1. Ipotetico. Con Cannonball non andrebbe a 9. Andrebbe a 7. Proviamoci ugualmente a fare sta roba. Ok. Godo. Sperito. Che è sta play pazza? Per cos'è questa play pazza? Ehi. Bravo. Iscriviti al canale. Buona visione. Lui non avrebbe vinto perché Cannonball avrebbe spostato il mio Cannonball. Però c'erano comunque troppi punti. È bello che c'era il meno... Il meno 4. Oddio, c'era il meno 4 della kiss. Eh no. E lei c'era il meno 4. Allora è stato stupido. Dai, è stato stupido il ragazzo. Poteva vincere molto tranquillamente Shallow, secondo me. Sì, sì, sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. Hai capito quanto è rotto sto mazzo, raga? È illegale. È illegale. Non si può fare niente. Immaginate quanti mazzi countera. Per esempio, io l'ho beccato contro col vivente Miara. Per dire. Il destroy può... Il profix lo countera a bestia del destroy, se è capitato bene. Si è girato bene. Oddio, Kitty Pryde è lì, però. Vabbè, giochiamo in curva, dai. Giochiamo Kitty Pryde, poi la white, poi l'op summer. E io lo snapperei. Perché abbiamo la combo già. C'è questo... Ma che è? Bardi Rook Simulator? C'è la 8 location, io non so nulla. Dai, Kitty white. Ok, ricominciamo la roba. Ops summer, turno... Oddio, sai che non lo farei. No, io non farei Ops summer. Cioè, io non farei Ops summer. Adesso io farei te. Farei Ops summer. Farei Ops summer, sì. Ops summer più tena. Giochiamolo su Gus, anche perché penso che lui dovrebbe essere un Sirebro. Non so se c'è la Valkyrie, visto che... C'ha due Gus, quindi dovrebbe essere un Sirebro a due. Mi verrebbe da dire. Vediamo, lui contro snap. Lui è convinto delle sue potenzialità. O c'ha Shadow King. O c'ha Shadow King. Sì. Molto probabile che lui abbia Shadow King. Vabbè. Beh, ti devo dire... Ok. Bella, la Quake. Mi è piaciuta la Quake. Mi è piaciuta la Quake. Uno. Due. Anzi. Uno, due. E poi io giocherei qui. Tanto abbiamo capito che Tena a Bardi Duke non gliene frega nulla. Quindi... Possiamo giocare. Così che poi abbiamo i punti con Opsambre. Anche se non ci servono, visto che c'è Campi Elisi. Adesso vediamo che cosa gioco lui. Madonna, lo strong guy, fratei, quanto è ammontato. È lo Green Goblin lì. Angela si buffa. Teoricamente adesso dovrebbe prendere il baffettino Tena. Seguendo quello che ha fatto prima. Vediamo. Kitty Pide torna lì. E vediamo intanto che gioca lui. Night Crawler. Nebula. Oh, 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 oh. USA Agent. Mamma mia. Io sai che non ho idea di che mazzo può essere il bro? Sai che non ne ho idea? Comunque, come avete visto, Tena si buffa. Allora, io devo giocare a Dukart. Se già la lasciate per ultimo. Farei Ravonna. Farei... Bola White. La possiamo provare qui? Magari? Magari lì no. Magari lì no. Allora, uno. Allora, due. Allora, tre. Allora, quattro. Così che ci riprendiamo alla Sage, capito? Bello. Bello. Bello così. Bello così. Lei non si buffa la nebula. E Sage ce l'abbiamo appaggredata. Teoricamente. Mamma mia. Oh, vedete? È una 2-10, eh? È una 2-10. È una 2-10. È letteralmente una 2-10. Cioè, tu già immagini questa roba... Tu già immagini questa roba. Tu già la immagini questa roba. Qua è vinta. 100%. E lui si ritira, frate. Snappo di 8 cubi. È normale che te ne devi andare via. Mamma mia. Che cazzo, Sage. Cioè, ditemi voi. Ditemi voi. Che mazzo può cantare questo mazzo qui? Cioè, se gira come deve girare... Che comunque ti mette sempre le potenzialità di fare giocate sempre più diverse. Visto che... Cioè, Cannonball e ProVix comunque non le abbiamo adottate. Ancora. Fare quella combo che fanno tutti ogni volta che la trovate contro. Ancora non l'abbiamo fatta. ProVix. Snap. Come faccio a non sdappare quel laboratorio di Shuri? Con Kitty Pryde. Soltanto Shadow King potrebbe essere la Play per il ragazzo. O uno Shang. Però la Kitty sul laboratorio di Shuri è illegale. Letteralmente poi di testa come Prey. Prey. Siamo a due che si ritirano così. Senza senso. Gli snappi se ne vanno via. Allora, proviamo. Progetto. Sì, frate. Progetto Pegasus. Io giocherò il prof qui. Capito? Eeeh, boh. No. No. Non Castello Blackstone. Ma non Castello Blackstone. Angela. Eeeh. Oddio, no. Non Angela. Non Angela. Però lui potrebbe andare a giocare robe. Qui. Vabbè, non giochiamo Angela. Ok. Pareggiamo i conti. Pareggiamo i conti. Ora, mi serve Kitty Pride. Green Goblin ci sta, sai. Ci sta Green Goblin. Lui snappa. Lui è convinto delle sue potenzialità. Vediamo. Allora, turno 3. Lui non può giocarmi. Ok, perfetto. Red Guardian. Olè. Vediamo Red Guardian. Problematica come situazione Red Guardian. E si prende pure quello. Ora. Turno a Jeff. Per forza turno a Jeff. Jeff. E però non si prende il buff. Eh, ma non me lo prendo manco io così facendo. Sage. Più Nebula. Io non vinco su Bardi Luke, però. Perché io mettendo Jeff non mi upgradeo. Non posso neanche giocare a Cannonball adesso. Sai dove lo fa io? Dove lo fa Cannonball. Eh, ma non riesco. Questo è un Locker addirittura. Questo mi sa che ci dà un cazzo. Bello però. Bello però. Bello, 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 bello. Ora. Come vinciamo noi? Non vinciamo a destra o non vinciamo mai? A destra o non vinciamo mai? Potremmo fare questo. Ma questo è inutile. Cioè, metti che lui ha Cannonball. Gli ha dato Cannonball. Però lasciamo questo spazzettino qui. Lo lasciamo. Sì, sì, sì. Lo lasciamo. Lui è Cannonball. Cioè, capito? Cannonball è illegale. Cannonball è illegale. E lui mi sposta Sage qui. A sto punto. Siccome ipotizziamo che lui possa adottare un Cannonball qui. Che potrebbe averlo copiato. Facciamo così, al contrario. Però c'ha l'aprio. Spero che faccia questa play. Ovvero che metta Cannonball al centro. No. Vabbè, l'avremmo perso comunque. Elsa Blaston è stato illegale per il suo mazzo. Cioè, gli ha permesso di vincere qui. Gli ha permesso di vincere qui. Cannonball non facevo nulla. Però mi fa piacere che comunque l'unico mazzo che può incontrare, penso, questo mazzo, è proprio i blocchi. Perché riprendi le tue stesse carte. Però, ugualmente. È stato bravo il ragazzo. E se ancora non avete fatto l'infinite scato con questo mazzo, ci arriva dai occhi chiusi, raga. Un bacio. Ciao. Ciao